Si avvicina un altro fine settimana ricco di impegni per i nostri atleti. Le ragazze dell'ASD Cava Volley, impegnate nel campionato di Serie C, torneranno a giocare in casa presso la palestra San Nicola di Pregiato domenica 20 marzo. Le cavesi affronteranno la Giardini Poseidon al cospetto dei propri tifosi. Fischio d'inizio alle ore 16.30. Parola d'ordine, credeteci e non mollate. Il sestetto di Mr. Ferrara invece ha terminato il proprio impegno nel campionato di Serie C. Ora lo sguardo è rivolto ai play-off per accedere alla tanto sognata Serie B. Un sogno per il pianeta sport, sì. Un sogno a portata di schiacciata per il gruppo metelliano. Per loro la parola d'ordine è rincorrere del vostro sogno. Le aquie del Cava Basket scenderanno in campo sabato 19 in trasferta contro la Batese. Il match si disputerà presso la tendostruttura di Via De Luca, Sant'Antonio Abate, alle ore 19.00. Lontani dalle mura amiche dell'Igol Nest, i cestisti dovranno trovare la forza necessaria per battere i napoletani. Per loro la parola d'ordine è ritrovare la giusta armonia.